Il nostro canale è sempre più grande, ma è stato molto forte. Oh, piano, piano. Oh, metti dritto, eh, Sergei. Sì, sì. Allora, vai, vai. Vuoi? Non arriva dritto. Non arriva dritto. Tira. Allora, vuoi due facette? Sì. Tieni. Sai cos'è? Cos'è? Sono di lama. Vuoi una cordina? Oh, mamma mia. No, due facette, fai lunga. E arrivi sopra, capito? Dario, lo faccio non con il cuore, è per dovere! Questo lo mettiamo! E ancora uno! Io faccio, faccio, bisogna spostare un po'. Guarda come hai sentito il telefono subito! Eh, se tu vuoi la mano, io ti do sempre due! Perché io a te non ti do la mano, testa di minchia! E tu? Eh, hai toccato questa carta! Eh, perché io non ho chiamato 50 persone! Eh, hai chiamato! Ci siamo? Sì, perché ho fatto io! Dalla Russia con furore! Già colta a mattina! Dritto così, signore? Ciao? Che parezza, r carbohydrate! Non si altro! Non si altro! Non c'è più cosa una cosa! Grazie a tutti